l'executive business class è la scuola di formazioni per imprenditore si tiene due giorni al mese e le giornate sono suddivise con interventi formativi che riguardano soprattutto due temi principali ovvero il marketing e le risorse umane e momenti di studio personalizzato un vero e proprio addestramento one to one dove l'imprenditore o anche il manager segue un suo percorso di studio che riguarda sia temi più relazionali come la comunicazione la gestione di situazioni di stress che temi invece più manageriali come la gestione dei collaboratori lo sviluppo e la riorganizzazione del tempo in azienda